Il farmaco, anche se prodotto privatamente, deve comunque sottostare a dei controlli proprio perché deve mantenere quella non tossicità o perlomeno minima tossicità che possa permettere poi al cittadino di usufruire dei farmaci per curarsi. Altro discorso sono farmaci sperimentali che rientrano in una normativa che oltretutto ha anche un trattato internazionale che noi abbiamo sottoscritto però non ratificato, quindi non si sa se è applicabile o meno in Italia, che è il trattato a convenzione di Oviedo. Io vedo, esatto, quello del 97, però comunque le previsioni del trattato sono comunque ricomprese in una applicazione coerente e corretta dell'articolo 32, quindi da questo punto di vista diciamo che non perdiamo molto. Naturalmente sul diritto alla salute significa anche il diritto del cittadino a non essere curato, quindi a rifiutare le cure nel momento in cui io ho la disposizione della mia salute, perché è un mio diritto, e quindi posso avere anche il diritto a dire io non voglio essere curato, io non voglio anche essere salvato nel momento in cui fosse un problema proprio di vita o di morte. Quindi c'è anche il diritto del cittadino a rifiutare le cure e il diritto del cittadino a rifiutare qualsiasi tipo di intervento, da intervento minimo a intervento chirurgico, che possa comunque influire sulla sua salute, quindi anche il diritto a in qualche maniera lasciarsi morire. E questo è abbastanza importante, perché naturalmente uno Stato etico non ti permetterebbe di fare questo, una visione etica dello Stato ti costringe a essere sano, ti punisce se non sei sano, attenzione perché questa è un tipo di valutazione che passando sempre dal lato economico, perché la visione economica è sempre un gran grimaldello per scassinare i diritti costituzionali, con la scusa della economicità o non economicità della cura, si vuol passare da uno Stato appunto laico a uno Stato etico, c'è uno Stato che ti impone dei comportamenti considerati salubri e che ti punisce se questi comportamenti non vengono attuati, ti punisce da un punto di vista economico, ti punisce da un punto di vista sociale e sempre e comunque con riflessi economici. Attenzione perché questo è un meccanismo che stanno cercando in qualche maniera di far passare, sempre diciamo da una parte giustificandolo con la minor spesa sanitaria che ci sarebbe se tutti siamo sani e dall'altra con il fatto che lo Stato deve garantire il benessere dei cittadini e quindi anche il suo essere sano al di là della sua volontà. E questo invece nell'articolo della Costituzione è ben chiaro, non solo nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, ma proprio perché il diritto alla salute è un diritto e non un dovere, non esiste il dovere alla salute, è un diritto di cui io posso rinunciare come tutti i diritti e nessuno mi può dire niente. Questo è molto importante perché porta appunto a vari tipi di conseguenze, cioè io devo essere informato per poter decidere liberamente se accettare o meno un certo tipo di cura, devo essere in grado di poter dare e togliere un'autorizzazione che ho dato per farmi un determinato trattamento, quindi è un discorso molto molto importante. Qui poi si innesta il discorso che è diventato assolutamente, come dire, di attualità e anche di dolorosa attualità delle vaccinazioni. Perché l'articolo dice non posso essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ora, la disposizione di legge è prevista in due casi, o il trattamento sanitario obbligatorio nel momento in cui io sono un pericolo per la società, quindi io singolarmente sono un pericolo per la società e quindi devo essere in qualche maniera curato perché il mio non essere curato è pericoloso per gli altri, oppure per le vaccinazioni, che in fondo hanno un po' lo stesso tipo di valutazione, cioè io devo vaccinarmi perché è l'interesse della collettività, tenendo presente che il diritto alla salute è un diritto prima di tutto personale, ma poi è anche un diritto collettivo, cioè interesse della collettività. Però qual è il limite di questo interesse della collettività? E questo è molto importante. Il limite è sempre che io, personalmente, non subisca un danno da questo trattamento. Cioè io posso essere obbligato a fare, per esempio, una vaccinazione se e solo se la vaccinazione è sicura secondo i standard scientifici diciamo più avanzati che sono conosciuti in quel momento e comunque non ne ricavi un danno alla mia salute, un danno che non sia un danno assolutamente lievissimo, cioè un danno che può essere sopportato nell'interesse degli altri, perché altrimenti, e questo l'ha ribadito anche la Corte Costituzionale, io posso rifiutare qualsiasi trattamento che mi danneggi anche se questo mio rifiutare porta a un problema o può portare a un problema al resto della collettività. Quindi, prima di tutto, c'è la salute personale. La salute collettiva viene solo se è garantita la salute personale e io posso fare un minimo sacrificio a favore della collettività, perché altrimenti io non sono tenuto a fare un sacrificio per la collettività se metto a rischio la mia salute. Quindi, attenzione, perché la prospettiva è molto semplice. Prima c'è il diritto mio personale, poi c'è il diritto della collettività a che io non sia un pericolo per la collettività. E questa cosa non è mai stata, come dire, non è mai stata seriamente applicata, per esempio, per le influenze. Per ragioni economiche e di funzionamento della società si è sempre lasciato che le persone malate con l'influenza o con principi di influenza potessero andare in giro o potessero lavorare pur, anche se questo, metteva a rischio la salute degli altri e magari anche salute di persone che potevano in qualche maniera avere degli effetti gravi o anche letali da un'influenza. Tenete presente che l'influenza fa centinaia di migliaia di morti ogni anno? Non è, non sono cose... Però questo non ha mai fermato il discorso della libertà di ciascuno di autogestire la propria salute. Solo con il Covid e con determinate poche altre malattie si è arrivati all'impedimento della diffusione della malattia stessa e quindi di comportamenti che possono essere diffusivi della malattia. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, ecco, siccome questo è il limite, se non c'è una conoscenza scientifica adeguata, non sarei obbligato a vaccinarmi. Perché anche il mio consenso dovrebbe essere un consenso totalmente informato, c'è un consenso in cui mi si dice guardate, sinceramente noi non sappiamo quali sono gli effetti in questi casi o a medio-lungo termine, quindi se lo vuoi fare è un rischio che tu ti assumi in piena libertà. Ma sicuramente non posso essere costretto o direttamente, o immediatamente attraverso l'impedimento di una vita sociale come è accaduta con il Green Pass. Questi sono i parametri di funzionamento dell'articolo. Capito questo, adesso possiamo vedere questioni che vi interessano. La questione che interessava è come mai l'economia è così importante su questa questione? Come l'allacciamo? E come l'allacciamo questo? Allora, l'allacciamo in questa maniera. Io so che c'era anche il senatore e c'era il trattato. Ah ok, prego, vai. No, no, ti dicevo, ci sono delle sentenze che adesso vedo se riesco a ritrovare, comunque delle sentenze piuttosto recenti che dicono che il diritto alla salute è un diritto naturalmente ad avere i migliori mezzi possibili, ma deve essere contemperato, come al solito, con la possibilità dello Stato di spendere. Quindi è un diritto che trova limite in quello che lo Stato ha la possibilità di mettere a disposizione per garantire il diritto alla salute. E qui vengono fuori il discorso, per esempio, delle prestazioni sanitarie di base, prestazioni sanitarie fondamentali, che sono quel minimo di prestazioni sanitarie che devono essere garantite in qualsiasi caso. Poi la qualità della sanità dipende da quanto lo Stato può spendere. E questo fondamentalmente crea un po' di problemi, perché poi nel momento in cui si entra in un sistema dove lo Stato è costretto a non spendere, dove ci sono il pareggio di bilancio, dove ci sono i limiti previsti dalle regole di Maastricht, è chiaro che anche la salute diventa un diritto condizionato alla capacità di spesa indotta, perché non è una capacità di spesa vera, ma indotta dalle regole, dello Stato. E quindi lo Stato può, come dire, rifiutare, tranne il minimo indispensabile che deve essere garantito, una qualità superiore della sanità perché è troppo costosa. E questo è un problema abbastanza serio. Allora, c'è una mano alzata, prego. Sì, eccomi. Allora, magari salto di palla in frasca, però ultimamente sento molto parlare, molta preoccupazione per il discorso dell'accessione della sua humanità sanitaria, all'OMS. Volevo solamente sapere in che modo se è possibile farlo. Bisognerà modificare la Costituzione, possono farlo di palla in frasca, però io vedo molta preoccupazione, specialmente qua su X. Allora, per quanto riguarda l'OMS, io ho guardato qualcosa, ma sicuramente da questo punto di vista Claudio ne sa di più e mi piacerebbe che lui facesse un intervento su questo. Io ti posso dire che effettivamente non c'è una vera e propria cessione di una sovranità sanitaria, ma è vero che con la riforma che vogliono fare del trattato sanitario ci sarebbe una maggiore ingerenza dell'OMS la quale potrebbe imporre determinati comportamenti positivi o negativi agli stati che in qualche maniera sarebbe l'unica che potrebbe definire se ci troviamo in uno stato di pandemia o meno e quindi dire se vanno fatti determinati comportamenti oppure no, che può valutare i comportamenti dello stato in maniera autonoma, quindi può ingerirsi da questo punto di vista per dire tu stai facendo questo, non stai facendo quest'altro e quindi è sicuramente un'ingerenza e quindi intervenire un po' più pesantemente su quello che è il diritto dei singoli stati di determinare come vuol gestire il problema sanitario. Questo credo che sia il problema più grosso oltre al fatto della comunicazione perché sarebbe l'unico ente che avrebbe titolo per dire questa cosa che viene detta è vera, questa cosa che viene detta non è vera, è una fake news e voi sapete che per quanto riguarda la sanità tutte queste certezze su cosa è vero e su cosa non è vero, come abbiamo visto con il Covid, non ci sono, non ci sono sia per una ragione oggettiva perché la scienza procede anche modificando quello che pensava un giorno prima e perché la comunicazione ha sempre delle distorsioni e diventa propaganda, quindi sarebbe una specie a questo punto di tutore della propaganda sanitaria, il che lo trova abbastanza pericolosa, però io chiuderei Claudio se ci sono altre ragioni di preoccupazione o comunque se il trattato OMS può incidere sull'articolo 32 della Costituzione. La questione è abbastanza semplice, come nei termini è ovviamente complicata se uno vuole andare a vedere articolo per articolo, cioè il famigerato proposto trattato pandemico stiamo parlando di una roba di 30 pagine e così via, quindi già da fastidio. Comunque prima serve un attimino inquadrare di che diamine stiamo parlando. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, Carrozzone internazionale intergovernativo nato da uno dei tanti spin-off dell'ONU che hanno scoperto che era un mondo bellissimo quello fare l'organizzazione internazionale dove non paghi tasse, non sei soggetto a niente, non sei soggetto a nessun tipo di autorità, non devi rendere conto a nessuno, non c'è nessun rischio che arrivi qualche elettore e ti mandi a casa e così via, insomma il mondo del ben godi e oltretutto viene bene per aiuto a governanti pigri. Uno non sa che cazzo fare, allora dice ah vabbè ma tanto lo dice l'OMS, lo dice l'ONU, lo dice la FAO, l'UNICEF, l'OXE, o chi più ne ha più ne metta e va bene. Quindi questa cosa qua rapidamente è stata capita dall'elite globaliste dicendo funziona benissimo, è esattamente il sistema che vogliamo implementare noi, un qualcosa dove non esiste più la democrazia e noi che siamo bravi, intelligenti e molto meglio rispetto a questa gentaglia, al popolino e similari decidiamo un po' per tutti come deve girare il mondo. Per me ovviamente che considero la democrazia un baluardo fondamentale, già mi stanno sui coglioni come impostazione, così come mi sta sulle balle la FAO. Io vedere quando esco da Roma per andare verso Fiumicino fai il Circo Massimo, arrivi agli uffici della FAO, sono smisurati, sono smisurati veramente con fuori tutta la gente che fa la guardia, cancelli e così così tipo perché diventa zona extraterritoriale, è come essere, non sei più in Italia, in quella parte lì e vedi lì dentro migliaia di persone che dovrebbero combattere la fame nel mondo. Ma io ovviamente non posso farmi passare l'idea che in realtà stanno combattendo la fame propria, quella dei loro amichetti. Perché mentre sono lì a combattere con la fame nel mondo, con i soldi che tutto il mondo gli manda, fanno dei gran banchetti e così via. Poi dopo si avanza qualcosa, qualche piatto da lavare, questo tipo magari lo mandano ai bambini africani. Vi ricordate? Volevo diceva la mamma, guarda con i bambini che muoiono di fame, tu non mangi la pastina. Ecco, no? Cioè loro quello che mangiano qualcosa manderanno in aggiunta. Ma di sicuro le prime voci, adesso io non ho ancora guardato la FAO, non fatemi aprire una cosa alla volta, però insomma quando ho aperto il bilancio dell'OMS ero sicuramente, ero già certo prima ancora di aprire che trovavo che buona parte delle spese hanno per loro, infatti più o meno così. La cosa peggiore ovviamente è che questo organismo sovranazionale rapidamente come tutte le cose dove si capisce che il vero potere poi alla fine sta lì, no? Perché appunto non è soggetto a controlli, non è soggetto a elezioni, e beh, giustamente l'elite dice allora è soggetto a me perché se non è soggetto a Pecchioli, Sara, Borghi e così di questo tipo significa che io ho una prateria e infatti basta i vari sponsor diciamo così dell'OMS in realtà pagano di più rispetto a quello che pagano gli stati. Il maggior finanziatore, insomma, l'avrete visto da tante parti, è il famigerato Bill Gates che paga con due conti, uno quello con la propria fondazione e secondo quella con sta simpatica Gavi Alliance che è una specie anche di club del vaccino mondiale e così di questo tipo e quindi solo questi due assieme mettono circa 800 milioni. Tu sai che emette titoli la Gavi Alliance basati sulla spesa degli stati per vaccini? Sì, sì, lo so. Il Max in Bond? È fantastico. L'avevo il come si chiama il il BTV è buono del tesoro vaccinale, sì, è una una roba vabbè. Comunque fatto sta che cosa succede? Che a un certo punto questi signori qua hanno approfittato della pandemia per dire cazzo è il nostro momento. Cioè in condizioni normali uno dovrebbe dire il covid ha dimostrato che voi non servite assolutamente a nulla nemmeno si riusciva a capire un qualcosa di definitivo se servissero le mascherine o meno e poi dopo alla fine cioè ormai adesso stanno cominciando nel silenzio generale a emergere gli studi definitivi che dicono che le mascherine non servivano a un cazzo ma all'epoca almeno su una cosa così basilare avevano iniziato bene dicendo ma le mascherine non servono dopodiché tutti ma no le mascherine allora ecco che rapidamente sono tornati indietro dicendo no invece le mascherine servono molto perché hanno capito che era un discreto strumento di dominio e e similare quindi una cosa che sti grandi scienziatoni strapagati no che non riuscivano nemmeno a sapere alla partenza di una eventuale pandemia no quantomeno di una malattia che cosa bisognasse fare con le mascherine uno dovreste dire vabbè sentite andate a cambiare mestiere invece costoro hanno detto no questa è un'occasione d'oro la pandemia anzi cioè io mi ci tuffo perché così facendo io posso dire usare il vecchio sistema dice non sono stato efficace certo ci vuole più OMS no che è la solita roba non funziona l'Europa ce ne vuole più Europa non funziona tutte le robe che non funzionano ce ne vuole di più e quindi allora subito è partita la grande idea del voglio più OMS e quindi dice facciamo un bel trattato dove invece che avere gli stati che vanno per conto proprio se c'è una pandemia virgolette comando io ovviamente secondo lo stesso il solito principio utilizzato anche per il MES però devo essere anche in grado di essere io a decidere quando prendo il potere no e quindi si dà molto più potere all'OMS per decidere quando è una pandemia e dopo che loro hanno deciso che la pandemia ecco che è il momento in cui allora arrivano i superpoteri no e allora possono decidere loro cosa fare cosa non fare io sinceramente sono un po' scettico sul fatto poi dell'effettiva portata di queste cose no perché cioè di base se poi uno stato non lo fa che cazzo succede mi arrivano i cararmati dell'OMS solo che dall'altra parte però tanto abbiamo visto che una volta che tu fai delle cose che di base la tua testa diceva vabbè ma cos'è mi costringono e alla fine in qualche maniera ti costringono e quindi altrimenti dovrebbe essere così anche per l'Unione Europea no cioè io diciamo all'inizio quando dicevo vabbè andiamo contro l'Unione Europea che cosa vuoi che ti facciano che ti mandano i cararmati che non ci sono però tanto vedi che trovano dei sistemi ti isolano ti dicono che allora sei come la Corea del Nord ti fa salire lo spread insomma tutte robe non bisogna mai sottovalutare i poteri di coercizione di questi di questi soggetti e quindi niente il fatto è che a maggio ci sarà l'assemblea dove giustamente loro proveranno a chiedere oltre che più soldi perché tendenzialmente ne chiedono circa il 20% di più ogni anno rispetto a quelli che che normalmente ricevono per aggiungere anche appunto la firma di questo trattato pandemico la cosa però più fastidiosa è che secondo me questi hanno un po' nasato che in questo caso è un po' difficile riuscire a farla passare zitta zitta questa cosa perché ci sono tutta una serie di gonzi che sono felici pagati o o anche di loro probabilmente disinteressati dicono la quantità di quelli che dicono ma lo fanno tutti lo faccio anch'io è smisurata voi immaginate non so tipo i governi quando c'era Berlusconi o così questo tipo io già me lo vedo cioè lui magari animato da buone intenzioni ma arrivava uno e dice oh c'è stanno questi dell'OMS dell'ONU che dicono che fa il trattato pandemico che lo fanno tutti ma sì ma certo ma facciamolo anche noi senza guardare che diamine era perché che cosa perché si fa fatica a leggere 30 pagine di cose scritte in modo complicato tanto uno giustamente si è sempre pensato ma tanto alla fine facciamo il cazzo che vogliamo cioè non sono sicuramente queste cose e così poi ci siamo trovati col bail-in ci siamo trovati con l'inmes ci siamo trovati con tutta una bella serie di fregature secondo lei secondo te secondo noi secondo voi ma l'aver ratificato questo mess può aver avuto qualche influenza anche beh sì è una fa parte del domande no ma fa parte del del processo ma no fa parte del processo di sveglia cioè il fatto che si sia capito che si può dire no improvvisamente fa diventare realistico anche il fatto che si possa dire di no anche a questa cosa no altrimenti se non ci fosse stato questo precedente va una delle solite sparate di quel borghi lì no e così questo tipo e quindi invece in questo caso no cominciare a dire no ci si mette di traverso anche sul trattato pandemico nella testa di qualcuno diventa realistico no dice minchia così come non hanno fatto saltare il mess sarà mica che fanno saltare pure anche sta roba qua quindi sì certo è è questione di credibilità ecco però giusto poi insomma vi lascio andare avanti la cosa che mi ha fatto un pochettino drizzare le antenne è che questo devo dire non lo sapevo cioè nel senso l'avevo visto se vi ricordate sarà stato un anno e mezzo fa qualcosa del genere quando c'era stato uno prima di diciamo della scorsa assemblea un anno fa prima della scorsa assemblea dell'OMS c'era stato uno dei tanti falsi allarmi periodicamente veniva fuori se entro il 22 di novembre non non recediamo allora significa che cederemo la sovranità all'OMS ecco non l'ultimo quello del 22 novembre scorso l'anno prima era venuto fuori uno di questi falsi allarmi allora va bene ho detto documentiamoci andiamo a vedere e in quell'occasione lì avevo visto la questione del regolamento sanitario ecco quella cosa lì mi aveva infastidito perché significa che evidentemente avendo fiutato che era possibile che era un po' a rischio la procedura del trattato perché dice ma metti caso che salta perché tanti non lo firmano così questo tipo allora ecco che in parallelo hanno fatto correre anche il cambiamento del regolamento sanitario internazionale che è una specie boh di codice internazionale di condotta quando arrivano le pandemie quello che ti dice che tu boh quando puoi isolare le frontiere quanto puoi fare quarantena quanto puoi guardare i passaporti insomma una roba di quel tipo lì e più o meno le stesse modifiche che volevano fare col trattato guarda caso le vogliono trasporre col regolamento che è una cosa più fastidiosa perché essendo che il regolamento sanitario internazionale è già in vigore se tu lo cambi automaticamente diventano vanno in vigore anche i cambiamenti notare tutti anche i piccoli cambiamenti legislativi che sono stati fatti sono stati fatti con più o meno un unico obiettivo vedere di riuscire a chiudere tutto questo meccanismo prima delle elezioni americane hanno anche diciamo così accorciato la tempistica di uno stato in cui possa dire no a questi cambiamenti del regolamento sanitario in modo tale che il tempo del no scadesse esattamente proprio prima delle elezioni americane in modo tale che nella loro testa poi secondo me Trampone se ne sbatte dei regolamenti e gli dice tanti saluti a tutti ma diciamo di base il ragionamento era io metto delle cose che possono essere vincolanti e lo faccio prima che arrivi il rischio Trump che come sappiamo una delle prime cose che aveva fatto quando era andato al potere si esce dall'OMS e si esce da tutti questi cialtroni qua si smette di dargli dei soldi perché sono solo dannosi se va bene e quindi anche io da buon atlantista tutti dicono l'atlantismo l'atlantismo ecco facciamo gli atlantisti ci portiamo avanti con il lavoro dato che sperabilmente Trump vincerà le elezioni cominciamo anche noi a ragionare sul fatto di non dargli più un soldo a questi soggetti e ovviamente di non firmare il trattato pandemico scusa Claudio volevo aggiungere che fortunatamente questa modifica che vogliono fare del regolamento c'è un comitato di revisione che sta demolendo le modifiche perché hanno visto che sono modifiche che appunto comportano una perdita di controllo per quanto riguarda gli stati sulla sanità e quindi stanno facendo una revisione negativa nel senso che le modifiche dicono no guardate questo è meglio non approvarla questo è meglio non farlo perché quindi anche lì sono convinto che non sarà facile che faranno passare nel regolamento quello che non passa magari col trattato vabbè ma ho visto che ci sono resistenze da tante parti mi fa molto piacere insomma non sto certo dicendo che saremo noi a salvare il mondo ma se ci aggiungiamo diciamo a altre voci che già sono critiche rispetto a questi cambiamenti male non fa questo è sicuro anzi è proprio da approfittare del fatto che c'è questo comitato che tutto sommato sta facendo un buon lavoro quindi sì aggiungere voci darebbe più forza quindi dai avanti io comunque accetterei tutto ma con la logica di bacchetto la logica di baghetto ecco ottima idea la logica di baghetto sì mamma mia va bene vediamo un attimo qualche domanda che si è tolto voglio dire anche una cosa che avevo saltato tenete presente che il concetto di salute è un concetto molto ampio non è solo un concetto di salute fisica ma è un concetto di benessere fisopsichico e quindi del fatto che la persona si trovi bene con se stessa non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale questo da una parte è positivo perché effettivamente dà un concetto di cura che è un tantino più allargato cioè la cura non è solamente quello che fa star bene il fisico ma è qualcosa che deve far star bene la persona in sé quindi deve portare a un miglioramento fisopsichico però ha portato anche a far rientrare nel diritto alla salute quello del diritto per esempio del cambiamento di sesso perché si è detto siccome uno vive male se stesso perché non è del corpo che dovrebbe essere allora c'è questo diritto che deve essere tutelato anche della possibilità di cambiare il genere e quindi si è in questa maniera un pochino implementata questa cultura diciamo woke recente si è fatta rientrare nei diritti dell'articolo 32 ecco ci sono domande volentieri no è che ci sono tutte le di sotto no ho visto che sotto c'era uno che diceva no ma che non è vero questa libertà perché i metallmeccanici devono fare l'antitetanica e le infermiere devono fare l'anti non mi ricordo che ma questo rientra nel discorso che se sono io ho lasciato il microfono per me però io già posso rispondere se sono delle forme di vaccinazione come dire considerate ormai sicure perché sono testate da anni e anni quindi diciamo i rischi sono sono molto bassi e allora chi è esposto a poter o personalmente o agli altri provocare un danno per il fatto che il diritto a salute è anche un diritto della collettività può essere in qualche maniera obbligato a fare un tipo di trattamento considerato non pericoloso che però sia di interesse per gli altri che gli stanno vicini o per quelli che lavorano con lui quindi sì determinate soprattutto vaccinazioni quelle classiche che sono ormai conosciute e si sanno i rischi e che effettivamente hanno dei rischi molto bassi sinceramente e allora possono in qualche maniera essere obbligati per determinati tipi di categorie purtroppo la Corte Costituzionale è considerato rientrante in questo tipo di obbligo lecito anche quelli della legge Lorenzin e quindi obbligare i bambini a tutta quella serie di vaccinazioni in brevissimo tempo perché sono tutti vaccini comunque ben testati conosciuti però in questo caso non ci sarebbe il fatto di essere una categoria particolare o a rischio o che mette a rischio gli altri perché i bambini sono bambini non è una categoria insomma è chiaro che i bambini si ammalano i bambini hanno anche una resistenza molto maggiore a tutte le malattie quindi fondamentalmente non sono soggetti né a rischio loro e sì sono a contatto con altri bambini ma insomma è sempre stato così però purtroppo la legge o in sì è stata considerata dalla Corte Costituzionale come rientrante nell'ambito dell'artigo 32 quindi costituzionalmente corretta e questa è una rischio che aveva posto la domanda che vuole intervenire immagino per chiarire meglio il perimetro della sua appunto domanda una questione che sollevava prego ciao a tutti io credo che però Luigi che stimo sta parlando di teoria nella pratica poi se tu cerchi conosci un po' cosa vuol dire la farmacovigilanza in italiana come viene sviluppata che comprendi che qualsiasi cosa anche i vaccini covid fanno bene e hanno poche reazioni avverse ti faccio un esempio il morbillo hanno obbligato le infermiere quando il vaccino è stato provato da tre anni perché non considerate che la vaccinazione antitetanica è del 19 il vaccino ha un nome cognome e mediamente cambiano commercialmente ogni dieci anni perché ogni dieci anni è un nuovo prodotto il vaccino antitetanico somministrato a i metalmeccanici che non hanno un rischio professionale è stato testato l'anatetal su 57 persone capito non su 30.000 come i vaccini covid 57 per cui in realtà è tutto teorico bellissimo ma nella pratica viene tutto con l'attuale sistema italiano di farmacovigilanza è che tra l'altro ve lo dico da Veneto il 50% dei dati raccolti dalla farmacovigilanza italiana di AIFA è raccolta dal solo Veneto non perché il Veneto è bello è figo ma perché il Veneto ha un meccanismo farraginoso chiamato canale verde che costa un botto di soldi ma sostanzialmente deve segnalare un pochino di più ma 5 milioni di abitanti segnalano quanto tutto il sud Italia isole comprese e centro Italia lo capisci che è considerabile sicuro con questo sistema qua pure se ti somministro la strechnina se in Veneto io segnalo raccolgo 1200 segnalazioni di vaccini classici e in Lazio 8 capisci che tutto è fantasmagorico e stupendo e tra l'altro quando imposono la vaccinazione nell'80 al personale al personale a 22 professioni perché la legge è del 63 poi venne ampliata a altre 22 professioni spezzando anche quell'idea iniziale della legge sull'antinetanica che dava che imputava l'obbligatorietà agli operatori agricoli che aveva un senso lavori con le mani nella merda di cavallo ti puoi ferire a una logica ma chi guida un treno non mi sembra che per cui hanno totalmente distrutto quello che era l'interpretazione più benevole dell'articolo 32 oggi la collettività per qualsiasi trattamento sanitario che rientra nei vaccini e poi non lo apro perché è un tema che conosco solo ci ho messo solo il naso e lì è tremendo la parte oncologica se tu hai un figlio minorenne anche solo di 17 anni e decidi di non seguire quello che è il diktat dell'ospedale possono udire il giudice in 24 ore per cui è tutto teoria quello che è raccontato ma nella pratica licenzano senza neanche disposizione di legge perché io ad esempio le ostetriche e il personale sanitario o chi fa Erasmus oggi chi fa Erasmus è obbligato a otto vaccini non c'è neppure la disposizione di legge non c'è se tu fai Erasmus in Spagna sei obbligato e non c'è disposizione di legge per cui in realtà nella pratica è molto diverso purtroppo no lo capisco e probabilmente non solo è così ma sicuramente come dici ma il fatto è che purtroppo le applicazioni pratiche possono essere applicazioni anche in violazione se poi mi dici che non c'è neanche una disposizione di legge è sicuramente in violazione per i medici non c'è e vi dirò vi dirò anche una cosa e poi trasoperare subito quando venne imposta una vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario che aveva anche una logica antipoete di cioè rischio professionale specifico per cui rientrava anche nel decreto legislativo maxidecretto sulla sequenza sul lavoro rientrava fu De Lorenzo ad ampliare l'obbligatorietà anche al personale sanitario siamo tra gli unici paesi del mondo che hanno ancora dopo la tangente di De Lorenzo l'obbligo sui sanitari che si è esteso con tra l'altro io il piano pandemico lo conosco ma mi spraventa meno di quello che spraventa voi perché mi spraventa molto di più l'Italia perché ad esempio nel piano di radicazione del morbillo che ha firmato l'Italia hanno deciso di imporre vaccini a pioggia a delle categorie che magari noi non frequentiamo cioè chi fa Erasmus o chi fa volontariato estero non è che sono il 50% della popolazione o tutti oggi che fa tirocinio medicina senza legge è obbligato a morbillo parotite rosolia varicella difterite tetano e pertosse e non sto parlando dell'utilità della vaccinazione tutte possono essere utile ma è un'imposizione e perdi i tuoi diritti di studio e di lavoro sì questa è una cosa sicuramente grave ed è una degenerazione che purtroppo deriva anche dal fatto che l'Italia si è impegnata a essere una frontiera di applicazione dei vaccini ha firmato un protocollo a New York dove si è posta come frontiera anche con la Gavi Alliance e non so se in cambio di aiuti economici o di che cosa ma comunque insomma non si sa il contenuto dell'accordo no non si sa tutto l'accordo quindi si reputa che poi ci possano essere stati benefici ma sicuramente non rientravano nell'accordo in sé l'accordo era semplicemente che noi eroicamente ci ponevamo come non dico cavie ma insomma più o meno beneficio ricordiamo però che non è stato il governo attuale a prendere questi impegni no no assolutamente è stato adesso non mi ricordo chi ma comunque è un dove no della sinistra su questo sono abbastanza sicuro gentiloni anche il governo Renzi con una parte di scambio di darvi puntari comunque dei lombardi li ha venditi alla IBM Renzi ma vedi comunque devo che parlassi su questa cosa qua perché era importante adesso poi do la parola a Papino credo che sia prima di Battista non so Battista prima forse Battista prima però voglio dire solo una cosa è chiaro che l'applicazione pratica di molti articoli non è così bella come la Costituzione vorrebbe e permetterebbe ma proprio conoscere quello che dicono gli articoli i limiti e quindi anche i diritti da una parte i doveri permette secondo me ed è questa ragione per cui facciamo questi incontri al singolo cittadino di capire qual è la sua posizione nei confronti dello Stato e degli altri cioè sapere che la Costituzione direbbe delle cose e poi in pratica ne avvengono altre permetterebbe al cittadino di essere più consapevole e dire no scusa tu questo lo imponi in base a cosa e quindi credo che sia importante sapere esco poi però Luigi il problema è che non esiste un giudice Miriam cercate su BioBlu lo trovate su Facebook perché Youtube lo ha cancellato e non lo trovi più Miriam ostetrica di Pesaro 2018 licenziata senza disposizione di legge e ha perso tra i gradi di giudizio per cui 32 va bene su tutto non quando si parla di Dio cioè i vaccini sì che poi è un elemento diciamo minore rispetto all'articolo stesso perché l'articolo soprattutto prevede come dicevo il diritto alla cura quindi il diritto ad avere un sistema sanitario che funzioni a che lo Stato metta in essere tutto ciò che può fare per poter garantire la cura quindi ospedali una struttura sanitaria efficiente un sistema che aiuti gli indigenti a potersi curare e tutto una struttura tale mettendoci i soldi perché il cittadino possa comunque curarsi in maniera efficace questa è la fonte diciamo primaria dell'articolo 32 poi il diritto alla salute è un diritto estremamente scivoloso se poi si arriva ai vaccini è ancora più scivoloso e secondo me c'è stata anche una degenerazione negli ultimi anni perché prima non era così di chi ci sta ascoltando volevo ricordare solo che Mattia è un componente dell'associazione Corvelva quindi i dati che riporta sono riferiti all'attività di studio che porta avanti l'associazione posso prego allora no perché sono fermo in autostrada quindi io sono solo di passaggio e volevo salutare naturalmente Pecchioli Dragoni e Borghi ciao da Fausto proseguite ciao grazie vi ascolto ciao Fausto prego Battista Battista io scusami ti tolgo il microfono intanto Fausto solo perché mi mancano i microfoni buonasera a tutti un saluto un saluto a tutti a Luigi e a Sara io volevo volevo chiedere un po' da profano a Luigi perché se uno si legge l'articolo 32 della Costituzione il secondo comma ti dice nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge quindi io leggendo questo articolo mi sono fatto la domanda ma può la legge viene prima della Costituzione sui diritti o è la Costituzione la fonte primaria del diritto in Italia perché la riserva di legge se la riserva di legge è infilata dappertutto nella nostra Costituzione vicino ai diritti anche quelli naturali è chiaro che la Corte Costituzionale non è che è stata appresso a quello che ha deciso l'OMS o la FAO o l'UNESCO o l'AIFA o l'Eutra Vigilanza o l'IMA la Corte Costituzionale ha deciso in base a una legge che è stata approvata dal nostro Parlamento se la legge ha imposto degli obblighi è chiaro che quel diritto viene meno male e quindi io mi domando se una forza esterna se un potere esterno sovranazionale si padronisce del nostro Parlamento i nostri diritti quanto valgono se vicino ad ogni diritto c'è la riserva di legge quindi la legge è la norma primaria che viene fatta dal Parlamento o è la Costituzione la norma primaria a tutela dei nostri diritti grazie ti dico subito le riserve di legge ci sono perché la Costituzione non essendo un codice e non dovendo essere un codice deve rimettere l'applicazione concreta e quindi anche le limitazioni a determinati diritti alla legge perché non può essere altrimenti cioè non può essere la Costituzione a dire che cosa minuziosamente deve essere fatto o non deve essere fatto quindi è chiaro che la riserva di legge è assolutamente indispensabile perché poi la parte diciamo precettiva che ha come base i diritti previsti in Costituzione e anche come sono espressi i diritti in Costituzione la legge deve poi fare applicazione tanto è vero che nel momento in cui una legge dovesse travolgere un dettato costituzionale viene dichiarata appunto anticostituzionale proprio perché va al di là di quello che erano i limiti posti dalla Costituzione la Costituzione dà un indirizzo è chiaro che non può dare il precetto l'articolo finisce con la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana che è comunque generico ma pone un limite che comunque può essere fatto valere perché il rispetto della persona umana significa il rispetto della sua libertà della sua determinazione di quelli che sono gli altri diritti costituzionali che formano l'insieme della persona umana da un punto di vista giuridico e poi certo il Parlamento doveva essere il luogo dove si discuteva in maniera democratica da posizioni diverse per arrivare a una sintesi ora se il Paese manda su delle persone che portano avanti delle idee e queste idee vengono poi trasfuse attraverso un procedimento di esame di dibattito all'interno del Parlamento in norme quelle norme dovrebbero rispettare il sentire del Paese cioè questo dovrebbe essere in teoria poi nel momento in cui cambia il modo di formare chi va al Parlamento perché non ci sono le preferenze ma sono indicati dai partiti cambia il modo di formare le leggi perché ormai sono indicate dal governo e approvate dal Parlamento perché ormai i disegni di legge quasi non esistono più ma esistono le proposte da parte del governo di leggi quindi diciamo che è cambiato proprio anche il modo di legiferare queste sono delle modifiche forse degenerazioni forse no del modo di fare le leggi quindi di governare il Paese che naturalmente hanno un riflesso perché è chiaro che poi le cose sono fatte dagli uomini se cambiano i modi di fare e cambia poi anche l'effettività di determinate cose cioè se i Parlamenti legiferano contro il popolo che li ha eletti secondo qualcuno è così poi è chiaro che si crea una discrasia che dovrebbe essere curata dal fatto che quelle persone vengono mandate a casa e ne vengono messe su altre però questo fa parte del funzionamento delle cose umane che non sono perfette e che quindi possono portare a situazioni che vanno anche in contrasto con quelle che in teoria dovrebbe essere il funzionamento però purtroppo su questo si può fare poco politicamente si può fare in modo che persone che siano più affini al modo di sentire della maggioranza del paese vadano al governo e che facciano quello che poi hanno detto di fare poi ci sono i impegni internazionali ci sono le partecipazioni a strutture sovranazionali purtroppo il mondo è un mondo complesso le cose facili non ci sono e le cose perfette non esistono neanche detto questo però la Costituzione cerca di dare un indirizzo il più preciso possibile lasciando la libertà al paese di determinarsi all'interno di quell'indirizzo e sulla salute la riserva di legge serve proprio a questo perché lo Stato deve essere libero di determinare come organizza la propria sanità e anche come organizza quei limiti che vengono diciamo indicati nell'articolo 32 cioè la possibilità di obbligare a trattamenti sanitari attraverso un intervento legislativo e se poi questo intervento legislativo degenera certo salta un po' un po' tutto però quindi dovremmo cambiare la situazione e mettere tutti possono essere obbligati a ricevere un trattamento sanitario no perché questo sarebbe una cosa che invece poi va al di là di qualsiasi ma quel nessuno non ha senso a questo punto bisogna mettere tutti possono essere obbligati a un trattamento sanitario per disposizione di legge sarebbe più chiaro la notte ovviamente dice questo dice nessuno non dice tutto nessuno in linea di principio può essere nessuno e nessuno può essere obbligato ma per disposizione di legge tutti possono essere obbligati certo per discutire su termine nessuno allora uno alla volta solo perché poi non vorrei andassimo di nuovo grazie perché siamo un po' tanti quindi intanto devo la parola papino e poi devo leggere una domanda molto importante che c'è sotto e poi chiaramente lui fai come vuoi sei co-host lascio la parola prima le altre domande prego la mia è una domanda magari stupida però è anche un pochettino più generale cioè posto che comunque continuiamo a dire che la costituzione vabbè questa viene disattesa e così questo lo dobbiamo prendere come ma esiste una possibilità qualcosa possa fare il cittadino quando viene palesemente disattesa legalmente sempre parlando palesemente disattesa uno di questi principi della costituzione oltre chiaramente a rompere le balle al politico di riferimento di turno a Claudio Borghi della situazione e in seconda battuta se nel caso venga tutto palesemente disattesa facciamo no diciamo non mettiamolo nelle cose da fare si pone bene come parafulmine quindi quando c'è qualcosa ha stato Claudio Borghi è bella sta cosa è che ha stato qualcuno almeno una colpevole no lo cito perché essendo una persona che si presta comunque al dibattito è anche chiaramente una di quelle che possono venire prese di mira è l'altra cosa per chiudere nel caso in cui appunto ci sia una palese violazione di quelli che sono piaciute la Costituzione si esiste una sanzione è un qualcosa per chi lo fa per il governo attualmente che ha fatto questa cosa perché altrimenti uno può fare la qualunque poi diceva beh ho sbagliato era incostituzionale va bene però ci hanno rimesso la vita soldi tempo tante persone di questa cosa quindi chiaramente non so se esiste una qualche clausola della Costituzione in cui ci si possa rivalere su qualcuno oltre che sullo Stato che per la fine sia sempre noi molto rapidamente si si può fare attraverso una opposizione a una norma che viene applicata al singolo cittadino si può andare in tribunale e lì sollevare la questione di costituzionalità della norma cioè dire io non ho adempiuto a questo obbligo perché ritengo che questa norma sia anticostituzionale e quindi voglio che venga valutata da parte della Corte Costituzionale se il giudice ritiene che la questione è importante ai fini del giudizio posso sollevare la questione e quindi rimettere la Corte Costituzionale la quale deciderà se effettivamente quella norma viola la Costituzione oppure no quindi il procedimento è questo è indiretto ma comunque è un procedimento per quanto riguarda la sanzione la sanzione diretta no chiaramente perché è un'azione politica quindi non c'è una sanzione diretta se qualcuno ha ricevuto un danno da una norma considerata anticostituzionale probabilmente può chiedere un risarcimento allo Stato per il danno che ha ricevuto questo come diciamo normale azione privatistica per quanto riguarda i danni altri tipi di sanzioni non ci sono e non avrebbe neanche senso che ci sia non so sì ecco scusate dall'altra parte ovviamente dovete tenere presente che alla fine il giudice di tutte queste questioni è la Corte Costituzionale che come stiamo imparando a conoscere di questi tempi è un organo politico è fatto da voi è ahimè quello che dovrebbe essere fatto di divinità infallibili e così di questo tipo in realtà stiamo parlando di persone che principalmente sono elette dal Presidente della Repubblica un terzo magistratura un terzo Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata per un altro terzo il risultato sarebbe da modificare Claudio questo sarebbe male sarebbe da modificare sì ma ci sto pensando e ci sto pensando da mo il il punto il punto però è proprio è proprio lì insomma tenete presente che aver avuto 15 anni di 20 quanti cacchio sono stati di Presidenti di sinistra fra altri Presidenti della Repubblica di sinistra fra altri danni ha fatto ha fatto anche questo cioè che una buona parte della Corte della Corte Costituzionale è ovviamente di sinistra aggiungerò che la questione Trump vale a dire è stato particolarmente diciamo particolarmente furbo perché una delle cose che ha fatto le prime cose che ha fatto è stata proprio guarda caso andare a cercare il controllo della Corte Costituzionale e questa roba penso che potrà giocargli molto bene in futuro ecco credo che avrà strada più facile nella prossima legislatura mi scusi ho una domanda per lei in quanto più che come parlamentare come cittadino perché ha sempre dato ecco come adesso un indirizzo molto chiaro sul su quello che bisognerebbe fare quindi non il fate qualcosa ma quello che bisognerebbe fare quindi ci stava pensando come poter cambiare la Corte Costituzionale su dei temi qual è il discorso dell'OMS o quant'altro quindi liberamente quali potrebbero essere secondo lei le azioni che si possono portare avanti per quello che dicevo non tanto come parlamentare ma quanto come cittadini al di là del vabbè ok la manifestazione questo quell'altro cioè delle cose un po' operative che possono essere magari pratiche utili e nello stesso tempo che facciano per chi le vuole fare sentire le persone utili e soprattutto abbiano in qualche modo un impatto pratico ma è ovvio che se si sta parlando di di battaglia contro il sovranazionale o così questo tipo il cittadino al momento non è che ha delle armi immediate io dico sempre che l'arma migliore è nella cabina elettorale cioè anche se qualche volta poi magari uno viene fuori e dice caspita ho sbagliato a votare non hanno fatto quello che mi aspettavo o similari però è abbastanza secondo me evidente che cos'è che non gradiscono non so come dire no cioè per dire in Unione Europea tanto per dire se invece di essere i soliti dovesse esserci una maggioranza possibile del gruppo ID o ECR insomma di persone che vogliono meno Europa insomma io credo che è più probabile che una Le Pen non me la vedo ecco invece della Wonderlion dire ah sì sì che bello facciamo il trattato pandemico insomma per carità di gente che impazzisce ne ho vista di tutti i colori quindi non metto la mano su fuoco per nessuno però dobbiamo cercare di minimizzare le probabilità ecco tutto qui quindi e poi insomma tendenzialmente fare pressione è abbastanza utile quantomeno a livello di informazione cioè per dire il fatto col MES cos'è che è funzionato è abbastanza funzionato quello di mettere sul piatto così tante tali prove eh della porcheria che era questo 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 strumento che anche diciamo i parlamentari eh e i miei colleghi che non non erano normalmente interessati alla materia eh insomma si sono fermati un attimo a riflettere dicendo ma sarà mica che stavolta che stavolta c'ha ragione eh quindi il fatto di eh continuare a ripubblicare eh cose informative similari che abbiano buone fonti questo è eh ovviamente una cosa che chiedo in ginocchio perché andare a riprendere la gazzetta del complottaro che dice che se il trattato pandemico viene firmato eh istantaneamente diventeremo eh degli schiavi di qualsiasi cosa che arriveranno e ci trasformeranno in ultracorpi eh e ci infileranno dentro nei tunnel degli ebrei sotto sotto New York eh non aiuta la causa ecco perché perché ovviamente dice ecco eh questa roba qua è una cazzata eh e invece bisogna cercare di portare avanti le cose in modo professionale cercare di scegliere delle buone fonti eh e una volta che si hanno appunto eh le buone fonti in mano eh riuscire in qualche in qualche maniera a rendere eh difficilmente evitabile il confronto sui temi perché a quel punto no uno dice beh ma aspetta un attimo cioè dicono delle cose serie eh la cosa è potenzialmente grave e forse mi ci interesso anch'io che pur magari invece sarei un deputato che ha come unico interesse quello di parlare di eh che ne so di 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 arte o o di cinema o di di appalti o di qualsiasi altra cosa insomma sottopongono una riflessione importante ci chiedono come è possibile ritornare ad avere fiducia nella classe medica ma non saprei non sono un medico eh si vuole costruire ma come ma sai ma come tutte le cose non è che si deve dare la fiducia alla classe medica è come dire ma perché io devo dare fiducia eh alla classe politica cioè nel senso ci sarà qualche politico bravo e qualche e qualche politico meno eh cioè io non è che mi vado ad affidare eh che ne so alla classe dei promotori finanziari pensando che tutti mi parano guadagnare cioè o che la classe dei ristoratori significa che sono tutti bravi uguali riuscire un attimino a anche a valutare le azioni dei singoli e le azioni dei singoli e quindi operare la distinzione nell'agire insomma scusate è quello che che predichiamo spesso quando si può nelle stanze di attivare lo spirito critico per cui di cercare di avere un po' di spirito critico sulle informazioni che arrivano quindi poi di epurarle un po' anche dalle stupigaggini ma intanto c'era Stefano con la mano alzata così facciamo un breve repilogo perché poi se no ci dilunghiamo troppo prego Stefano grazie buonasera volevo soltanto dire chiedere praticamente secondo me il problema sta nel fatto che a un certo punto lo Stato ha smesso di occuparsi di sanità cioè di infrastruttura e ha iniziato a occuparsi di salute che invece è una cosa personale del cittadino se noi stabiliamo che la sanità è pubblica cioè paghiamo le tasse perché la sanità deve essere una cosa imprescindibile primaria per ogni cittadino dopo sta a me però decidere come gestire la mia salute perché se no allora entriamo a gamba tesa appunto nel discorso che si faceva ad esempio con Bagnai qual è il bene comune il bene comune è la sanità è la salute dei cittadini e quindi tu devi essere risposto a farti il vaccino perché non è giusto che qualcuno che paga le tasse come te si trovi non essere in grado di utilizzare la sanità perché tu non vuoi farti il vaccino cioè bisogna proprio capire lo stato di cosa si deve occupare perché se vogliamo avere l'infrastruttura tu devi averli vaccini poi dopo sono io eventualmente il coglione che ha pagato dei vaccini che poi non usa ma è una mia libera scelta ok se invece vogliamo stabilire che la salute è la salute importante è il bene primario principale rinunciabile allora è lo stato che si occupa della tua salute e tu devi essere disposto ad aggiuntare determinati obblighi secondo me è tutto lì il discorso Stefano scusa se posso questa roba è una cosa dove spesso si va in cortocircuito no perché per dire quando magari parlavo con qualche mio collega in certi casi invece o per altri versi con cui andavo molto d'accordo e spesso di impostazione sinistra mi verrebbe da dire cioè quindi uno che normalmente su temi come difesa del povero difesa del debole e così questo tipo mi segue sempre più sei di impostazione sinistra più sulla questione dei vaccini andava andava in perché dice no lo stato deve poter imporre perché il bene comune è superiore rispetto al bene individuale quindi tante volte perché è stato uno strumento che ha fatto molto male è stata una cosa che ha portato a gravi divisioni perché in certi casi anche ideologicamente delle persone che magari ci erano affini e che venivano anche appunto da un background di sinistra e che vivevano insomma hanno vissuto anche dal punto di vista economico quello che la sinistra gli diceva come un tradimento hanno trovato la nostra spiegazione invece in termini monetari economici e così via molto convincente tante volte sul vaccino dicevano no è lo stato quindi che deve imporre motivo anche per cui diciamo in i paesi quelli diciamo così tendenzialmente comunisti o similari sono quelli che ci sono andati in certi casi molto più pesante sui vaccini perché noi dobbiamo far vedere che lo stato immunizza fa e cede sull'egoismo del singolo purtroppo in questi casi bisogna bisogna avere un minimo di apertura mentale cioè il tipo di danno possibile che ne deriva sulla collettività per la stragrande maggioranza dei casi quantomeno quello che ho visto io è viziato da dati farlocchi cioè tu non puoi dire ah va bene il rischio beneficio è sicuramente a favore perché così facendo è evitato tre morti quando poi magari ne provochi altrettanti per effetti avversi o così questo tipo guardate per esempio il caso insomma è un argomento che è venuto fuori proprio sparato guardando il bilancio dell'MS cioè se l'MS ha come principale diciamo fu tolti gli stipendi principale cosa spesa quella per i vaccini contro la poliomelite se la poliomelite alla fine era ridotta a 20 casi ma è il caso di prendere e di andare a vaccinare tutto il mondo spendendo 800 milioni per 20 casi che poi come sta succedendo l'eccesso di vaccinazione non richiesta porta delle mutazioni e la nascita quindi di di nuove cose cioè di più malattie di quelle che vorresti curare è ovvio però che dall'altra parte avevi 800 milioni 800 milioni possono essere molto convincenti per riuscire a portare determinate cose quindi il rischio rendimento deve essere molto ben spiegato per prendere delle decisioni politiche dal punto di vista invece finanziario il rischio rendimento dei vaccini è clamoroso cioè non è una cosa dove io ci posso pensare perché voi capite che se una ecco questo è il cane che vede un cane in televisione se se voi se dall'altra parte tu hai che ne so un caso su un milione per una malattia e allora il tuo costo sarebbe trovare una medicina per quella malattia una cura per quella malattia ed è una cosa che venderesti per un caso su un milione dal punto di vista del produttore vendere invece un milione di dosi di vaccino il rapporto è un milione a uno quindi è ovvio che dal punto di vista industriale la prima soluzione la massima figata sarà sempre il vaccino perché ha un diciamo un costo e una diffusione così astronomica rispetto a una cura che ti diranno sempre che è la cosa più conveniente del mondo aspetta la politica non farsi influenzare da queste cose però tenete presente che si fanno talmente tanti soldi che il modo anche di risultare convincente molto più di quello che sono i nostri post su X contro l'OMS vi assicuro che ce l'hanno quindi bisogna tenersi pronti a combattere contro gente motivata mettiamola così sì no no io ero perfettamente d'accordo su questo io ero più in su ancora coraggente nel senso in uno stato in cui esiste il ministro della salute ha perfettamente senso che qualcuno possa mettere un obbligo vaccinale io invece vorrei uno stato che ha il ministro della sanità che quindi si occupi di decidere quel vaccino va bene quello lì non va bene poi dopo sta a me decidere se va bene o non va bene fare quel vaccino cioè questo quello che voglio dire io è perché non abbiamo un ministero della sanità questa è la mia domanda poi dopo l'assurdità è che io sono un autonomo sono un libro professionista pago le tasse per il ministro della salute poi dopo però ho l'assicurazione perché se no non mi curano perché io sono fortunato ce l'ho bisogno anche perché se faccio un incidente sul lavoro non interviene il datore di lavoro per cui ho un'assicurazione sanitaria anche per quello ma capite che non si sente male sì si sente male diciamo che credo che tu intenda quindi perché non c'è un potenziamento del sistema sanitario nazionale in grado di attivare tutte le stanze no sì no io non non ho il potenziamento è questione che se c'è un cioè è sbagliato il fatto che ci sia un ministro della salute alla mia salute ci penso io è la sanità che deve essere lo stato deve occuparsi della sanità degli ospedali poi decido io se usufruirne o meno e questo è quello che voglio dire non so se si è capito Stefano ma in effetti in effetti è così perché se tu se tu non so se hai sentito quando ho iniziato io ho spiegato molto bene che il concetto di salute non è un concetto in cui lo stato garantisce o ti impone la salute cioè uno stato etico che entra nella tua sfera personale ti dice tu devi essere sano tu devi fare questo per essere sano lo stato deve garantire i mezzi per cui tu possa curarti o in prevenzione che tu non che tu non debba ammalarti poi per quanto riguarda i vaccini ma con i limiti che poi si sono stati violati è un altro discorso ma con i limiti ben ben precisi del fatto che non ci deve essere il pericolo per il singolo deve essere una cosa che è scientificamente testata sulla non pericolosità o sulla minima pericolosità e solo in caso appunto di applicazione sui vaccini allora ci può essere il sacrificio minimo minimo del singolo a favore della collettività tenendo presente che una sentenza della Corte Costituzionale dice chiaramente che se c'è il danno o il pericolo di danno del singolo questo può opporsi al trattamento anche se il trattamento è a favore di tutto il resto della collettività quindi i principi ci sono e anche i limiti poi se sono superati o meno in pratica è un altro discorso ma si possono sempre ricondurre a questi principi è chiaro che sulle vaccinazioni il discorso è molto scivoloso perché non è tanto un discorso di contemperamento da una parte ci sono 16 milioni dall'altra ci sono 10 che muoiono perché i 10 che muoiono non vanno bene uguale perché per la Costituzione la salute prima di tutto è un diritto individuale quindi io individualmente se ho un rischio posso e debbo rifiutarmi non posso rifiutarmi se il rischio è talmente minimo che in qualche maniera lo posso correre o comunque è giusto che lo corra in favore della collettività ma non posso correre un rischio di vita a favore della collettività questo sia ben chiaro perché fa parte proprio del corpo dell'articolo 32 poi lo Stato non deve assolutamente garantire la salute intesa come l'essere sano deve garantire strumenti perché io possa preventivamente non ammalarmi e se mi ammalo avere le possibilità di curarmi quindi esattamente costruire ospedali fare un servizio sanitario garantire la fornitura di medicinali e tutto il resto questo è l'articolo 32 e il ministro della sanità una volta era ministro della sanità si è voluto chiamare ministro della salute secondo me sbagliando perché il concetto di salute è un'altra cosa era ministro della sanità proprio perché doveva garantire che funzionasse il sistema sanità che è quello che deve garantire lo Stato non deve garantire che io sia sano o che faccia un tipo uno stile di vita salubre lo Stato non deve assolutamente entrare in questo io ho il diritto di fare uno stile di vita insalubre ho il diritto di farmi venire delle malattie ho il diritto anche di morirci questo è il principio allora darei passerei alle altre domande che ci sono in coda quindi Marlino in forma libera sì sì Lu nel senso prego vorrei solo ricordare che la stanza è registrata quindi chi avesse perso l'inizio e quindi l'intervento iniziale che spiegava l'articolo 32 può riascoltarlo questo non perché non si voglia informare ma semplicemente per non ripetere sempre le stesse cose e poter rispondere a più domande possibili infatti volevo dire questo appunto ecco ricordiamo adesso Marlino in forma libera poi Mattia e vi pregherei di fare interventi coincisi poiché siamo a ridosso dell'orario di cena e vorremmo dare l'opportunità a più persone possibili di porre domande e di avere anche una risposta grazie prego Marlino allora io sono un medico e parlo da medico mi sono laureato nel 77 e il concetto di vaccini nel 77 e in quegli anni era molto diverso perché facciamo l'esempio dell'apoglio era una malattia talmente grave che il concetto di obbligo da parte dello Stato era condiviso da parte dei cittadini quindi in realtà non era un obbligo era una condivisione di una terapia quello che è successo in questi ultimi diciamo 7-8 anni per poi arrivare agli ultimi drammatici tragici 3 anni ci ha fatto capire che lo Stato può intervenire in spregio a l'articolo 32 ma che c'è un paradosso perché lo spregio dello Stato dell'intervento dell'obbligo sull'articolo 32 in realtà è sancito dall'articolo 32 quindi il problema è quello lì bisogna togliere questo obbligo questa possibilità che il cittadino non possa decidere autonomamente e questo si può fare togliendo quella frase dall'articolo 32 quindi è lì il cuore voglio fare un piccolissimo ancora inciso su quello che diceva Stefano che è giustissimo c'era il ministro della sanità e il ministro della salute è diventato ministro della salute con una strategia per poter intervenire in questo senso a me non interessa che lo Stato garantisca la mia salute perché la mia salute la garantisco io me la garantisco io lo Stato deve intervenire con le strutture e questa strategia di cambiare il nome ha poi permesso allo Stato di intervenire con gli obblighi ho finito grazie Marino non so se voleva forse Luigi può rispondere a questa domanda perché io non sono proprio in grado non è una domanda lui dice sarebbe il caso di togliere anche solo la previsione di obbligo la previsione di obbligo era previsto soprattutto per i trattamenti sanitari obbligatori che sono una cosa di persone che possono mettere in pentola gli altri i TSO esatto poi il discorso del vaccino ripeto è un discorso molto scivoso e forse io farei casomai una norma in cui si dice che tranne cioè proprio una norma forse a parte per quanto riguarda dei vaccini oppure determinando in maniera espressa che cosa si deve fare o non si deve fare per quanto riguarda dei vaccini perché i vaccini è il problema il resto non sarebbe il problema dell'articolo neanche i trattamenti obbligati nel momento in cui si rientra appunto nei TSO che è una cosa assolutamente completamente diversa certo come sono state applicate adesso le norme è chiaro che il problema vaccini e la degenerazione dell'applicazione dell'obbligo vaccinale è diventato un problema quindi o si fa rientrare nei margini previsti da Costituzione con come dire anche una politica che quindi riprende il dettato costituzionale e lo segue un tantino di più di quello che sta facendo attualmente oppure certo in qualche maniera bisogna intervenire perché il problema capisco che c'è ed è diventato grave negli ultimi anni come diceva giustamente perdona Pecchioli nell'articolo 32 è previsto quello che ha fatto lo Stato in questi tre anni quindi è questo il problema è previsto che la legge possa obbligare il cittadino a un trattamento sanitario in questo caso appunto il vaccino questo è previsto nella norma cioè è previsto la possibilità di obbligare per legge questo è sbagliato scusate io non voglio non voglio fare il giurista non voglio fare il giurista che non lo sono è molto più bravo Luigi ovviamente in questi in questi termini dall'altra parte insomma proprio da prendetelo come come chiacchiera da opinione opinione da bar mi verrebbe però da dire che se la corte costituzionale fosse funzionata il problema si risolveva la radice perché è sempre stato lo stiracchiamento della costituzione in parti dove era evidente che non voleva andare l'origine del problema vi ricordate quando abbiamo parlato tante volte della cessione di sovranità che era stata pensata per l'ONU e poi invece ci siamo ritrovati con l'Unione Europea che scomandazza purtroppo le origini sono sempre lì cioè una corte costituzionale che avesse fatto veramente il suo lavoro e dice no una cosa è l'ONU una cosa è Bruxelles e quindi non puoi cedere sovranità in questa maniera così come una cosa è il TSO per qualcuno che non sta bene e deve essere diciamo così tenuto fermo e dall'altra parte invece è prendere obbligare tutta la popolazione a vaccinarsi altrimenti non possono lavorare capite che sarebbe stato utile invece purtroppo abbiamo visto che la sinistrizzazione della corte costituzionale ha reso questa tutela vana e quindi ci sarebbe oggettivamente forse da inserire delle norme aggiuntive che evitino questa come dire questa deformazione che si è avuto del pensiero dei padri costituenti sì perché comunque io credo che se ci fossimo trovati davanti a un virus veramente mortale la costituzione avrebbe funzionato perfettamente non è che avrebbe sbagliato sì infatti noi stiamo valutando una norma astratta attraverso dei fatti concreti e non è mai un modo molto corretto di vedere perché la norma è astratta proprio per questo perché deve isolare da quello che è la contingenza nella contingenza è stata applicata male una norma attenzione non è stato mica messo l'obbligo perché tranne determinate categorie i cittadini non hanno avuto un obbligo è stato in maniera molto più subdola e secondo me anche vigliacca messi in 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 modo tale che non potevano fare altrimenti non hanno messo l'obbligo ti hanno detto no no tu puoi anche non vaccinarti però non esci non vai al lavoro non vai al bar non fai attività sportiva poi sei liberissimo di non vaccinarti perché l'obbligo non è stato messo attenzione è una dittatura ma sarà stato messo l'obbligo tanto tanto giuridicamente si poteva anche andare a contestare questa cosa mentre invece non mettendo l'obbligo non si è potuto neanche andare a contestare questa cosa perché si è dovuto contestare una cosa completamente diversa che non c'entrava niente che era il gripas che non fondava un obbligo vaccinale attenzione quindi è stata una cosa molto subdola secondo me abbastanza ripeto vigliacca perché lo Stato non ha avuto neanche il coraggio delle sue azioni e delle conseguenze delle sue azioni perché attenzione perché nel momento in cui c'erano dei danni a quel punto il risarcimento era dovuto proprio per giurisprudenza costituzionale diciamo ormai risalente quindi non ha avuto il coraggio di mettere l'obbligo quindi attenzione anche questo comportamento della politica rispetto alla costituzione di cui ha avuto paura applicarla realmente e quindi l'ha aggirata ma una contrazione prego una più coercizione intanto c'era Mattia perché forse tu stai guidando Fedra e quindi c'era in forma in forma in forma grazie Luigi chi è che sta guidando che adesso arrivano quei coglioni di propaganda live a dire che fa le stanze quando guida allora sto guidando io Fedra ma ho il bluetooth sono in piena sicurezza e siamo anche ai 30 all'ora tutti e due sto rispettando sì no però garantisco che sto rispettando tutti i limiti tutti i dispositivi di sicurezza ho il bluetooth e non sto guardando lo schermo quindi però è ubriaca tranquilli non sono no non sono ubriaca no va bene informa prego buonasera buonasera che piacere avevo due o tre domande due o tre direttamente vai allora la prima è rispetto a perché ci girava girano un sacco di cose un documento che era di dicembre sulla questione OMS in cui dicevano hanno firmato una cosa eccetera cosa ne sa di questo documento e quale impatto avrebbe non faccio allarmismo né niente volevo solo postatare so che non c'è un grande impatto ma vorrei sapere qual è il significato e poi seconda domanda rispetto allo stanziamento dei dei fondi per esempio dell'OMS è il Parlamento che decide di ritirarli? grazie dunque no sulla prima parte abbiamo parlato prima del trattato pandemico e quelle cose lì quindi rimando al riascolto eventuale della stanza sul fatto di ritirare i soldi e questo è importante perché a lato pratico non tranne qualche piccola abbiamo fatto fare una ricerca di fino e tranne qualche piccola cosa che veniva messa dentro direttamente in legge di bilancio per esempio Conte aveva fatto mettere delle cose direttamente in legge di bilancio a favore di Gavi Allai e similari però i pagamenti agli organismi sovranazionali vengono fatti dai ministeri all'interno del loro budget per cui è una cosa pattizia non so come dire non c'è una legge che dice che io devo pagare l'OMS o che devo pagare l'ONU o simile è una cosa pattizia all'interno degli stati e parte diversa il ministero della salute sui suoi fondi e parte diversa il ministero degli esteri perché diciamo che i pagamenti organismi sovranazionali sono normalmente di competenza del ministero degli esteri la cosa non ci aiuta ovviamente perché stiamo parlando di due ministeri dove non ci sono esattamente due grandi sovranisti in questo momento dall'altra parte però insomma il fatto che siano su base ministeriale non possono del tutto prescindere dall'impegno politico se in buona sostanza per farla facile se sia noi che la Meloni condividiamo l'obiettivo questa cosa si fa come con me ecco più o meno cioè per dire se anche Forza Italia si astiene pazienza ecco però però ce la facciamo allora sentiamo Mattia che ha la mano alzata intanto perché faccio girare i microfoni non vi offendete se vi butto in ascolto poi poi vedete qui in ascolto no no vai pure Mattia secondo me manca lo dico mi inginocchi lo dico con enorme umiltà rispetto a tutti quanti molti che bravi di me ma avete mancato un punto l'obbligatorietà vaccinale può l'obbligatorietà sancita dall'articolo 32 può esistere ed è costituzionale e il problema non è costituzionale è culturale culturale derivato da un indottrinamento che hanno fatto negli ultimi anni perché quello che è mancato a dire stasera è che i diritti sanciti dalla costituzione non può essere un diritto che è tiranno su un altro per cui tu puoi mettermi un obbligo vaccinale che mi dà 50 euro di multa ed è perfettamente costituzionale e non c'entra se il vaccino è sperimentale non è sperimentale funziona non funziona non c'entra la multa non può essere sperequativa 50 euro e puoi darla poi la si combatte nei tribunali quello che è stato cambiato ed è il problema sociale e culturale che ha subito l'Italia e lo sta subendo l'Europa perché fra poco con la scusa nel morbillo ritorneranno a togliere libertà a tutti i cittadini europei vedrete è il fatto che hanno deciso dal 2014 in avanti che i diritti potevano essere tiranni l'uno sull'altro per cui il 32 sul 34 se vi ricordate la legge Lorenzina non ha tolto la scuola ai bambini ha tolto i servizi educativi dell'infanzia per me è abominevole uguale abominevole uguale ma perché non ha tolto la scuola perché l'articolo 34 permane e può esserci una disposizione di legge che obbliga un vaccino il problema è che abbiamo distrutto culturalmente questi da qua che i diritti possono essere tiranni e se non lo fermeremo sul campo sanitario arriverà dappertutto perché se un diritto può essere tiranno lo capite che in prospettiva possono toglierci qualsiasi altro diritto in funzione di un dovere diritto supposto e aggiungo che adesso non ho il dato aggiornato ma dovrebbero essere nel 2020 78 per dire a Marino prima che parlava dell'Apoglio assolutamente l'Apoglio ha fatto tantissime vittime benissimo ma l'Apoglio non toglieva la scuola ai bambini o il lavoro la vaccinazione per l'Apoglio la vaccinazione del 1800 l'obbligatorietà vaccinale del 1888 prendeva un'ammenda alta ma un'ammenda non toglieva il lavoro neppure precostituzione c'erano diritti tiranni e vi ricordo che muoiono noi maschietti moriamo ogni anno sono 78.000 maschietti che muoiono di tumore alla prostata è ipotizzato che tutti quando sappiamo che un dito nel sedere non è mortale per lo stesso concetto farci mettere un dito nel culo un giorno sì un giorno l'altro e imporlo dovrebbe far togliere il lavoro se lo quantifichiamo ai morti se noi decidiamo che in funzione ai morti si possono comprimere altri diritti allora vale su tutto anche un'abilità prostatica obbligatoria ai maschi se non ti toglie il lavoro la stessa deriva successe in Uruguay in cui le donne vennero private del lavoro se non si facevano la mammografia le donne pur facendosi la mammografia in Uruguay nel 2018 si opposero perché non per loro era totalmente estraneo dal loro concetto il obbligare comunque il tratamento sanitario in funzione di ledere altri diritti che non vuol dire tu se non ti fai la mammografia ti do 50 dollari di multa questo è quello che è cambiato in Italia e sta cambiando in Europa è qui che bisogna mettere un argine non all'articolo 32 che può permanere può rimanere così tal quale hai perfettamente ragione non esistono diritti tiranni questa è una cosa che si impara appena si comincia a studiare il diritto costituzionale e la cosa bella è che la Corte Costituzionale ha sempre detto che esiste al massimo il contemperamento ma non esistono diritti tiranni poi c'è stata ultimamente un'intervista al Presidente della Corte Costituzionale il quale ha detto ma però il diritto alla salute è un diritto che ha cominciato a dire come se esistesse un diritto tiranno tanto bene il diritto alla salute è un discorso gravissimo sono perfettamente d'accordo non devono esistere diritti tiranni non che l'articolo 32 preveda per disposizione di legge un obbligo perché mio figlio io mio figlio ho potuto non vaccinarlo non dico parlo per ipotesi non dico lo stato vaccino di mio figlio mi hanno tolto i servizi educativi io li contrasto ma non hanno tolto la scuola cioè e tra l'altro obblighi e doveri da parte dello Stato vi ricordo anche che in Italia è obbligatorio la scuola c'è una scuola dell'obbligo ma tu non sei obbligato a mandare il figlio a scuola perché può permanere l'obbligatorietà vaccinale ma tu dici no e non hai nessun'altra compressione di diritti se non una mera multa che poi contrasti combatti eccetera eccetera tu sei assolutamente ragione è una deriva da contrastare il nostro amico santo grazie 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 dal corriere abbiamo Franco Lella che mi è diventato sovranista ultimamente ciao ciao buonasera ciao ma non so se c'era Oden o Jessica prima di me francamente non lo so non vorrei neanche io onestamente scusate vabbè vai vai facciamo veloci va bene allora niente io volevo soltanto fare questa riflessione come giustamente diceva Luigi insomma l'articolo 32 fa riferimento a un diritto fondamentale quando si dice nella Costituzione si dice un diritto fondamentale diventa qualcosa decisamente di più importante quindi il diritto fondamentale alla salute un diritto che è stato sostanzialmente completamente violato dalla politica perché hanno fatto dei tagli allucinanti negli ultimi vent'anni trent'anni con le chiusure di strutture accorpandole ad altre lasciando scoperte intere zone e a questo si aggiunge anche la una riforma Bindi che ha stravolto l'intero compatto sanitario io a tal proposito vorrei leggervi una lettera che ha scritto tempo fa un primario un ex primario ospedaliero attualmente in pensione che potrebbe far riflettere un attimino tutti lui scrive se me lo consentite la vorrei leggere lui dice col decreto Bindi 229 del 99 si istituiva un ruolo unico del personale medico ospedaliero in cui a tutti veniva attribuita la qualifica di dirigente spariva il curriculum di carriera dei medici ospedalieri che si articolava nei tre livelli di assistente aiuto e primario la figura del primario a tempo indeterminato veniva sostituita dalla funzione di direttore di unità operativa complessa con contratto quinquennale a tale funzione potevano candidarsi ogni dirigente di quella specialità che avesse maturato un minimo di anzianità di servizio di almeno sette anni la selezione veniva effettuata da una commissione che valutava i candidati in funzione di un profilo professionale definito nel bando di concorso e in seguito ad un colloquio questo lo mette fra virgolette colloquio la commissione individuava una terra di doni mai parlare di graduatorie dalla quale il direttore generale nominava il vincitore su queste basi senza una verifica concreta sulle reali capacità professionali di un candidato si assegnava un ruolo di grande responsabilità identica a quella dello scomparso primario inoltre si lasciava ampio spazio alle discrezionalità dei direttori generali notoriamente a longa manus dei politici cui dovevano nomina e sopravvivenza gli scomparsi primari per poter accedere ad un concorso dovevano aver conseguito un'idoneità nazionale che non era una sciocchezza forse oggi non sarebbe inutile ripristinarle per chi vuole accedere al ruolo dei direttori di unità operativa complessa anche per temperare le discrezionalità che la presente normativa consente con i mezzi di valutazione attuali sarebbe certamente possibile seguire una più rigorosa e attenta selezione dei soggetti a cui va affidata la salute dei cittadini per un governo che istituisce un ministero del merito non dovrebbe essere difficile accogliere questa proposta ma questo è un paese di chiacchiere e di gattoparli quante volte abbiamo sentito rivolteremo come un calzino ma il calzino è rimasto sempre com'era perdonatemi di questa lettura però mi serviva per così cercare di illustrare quelle che sono state le dinamiche del nostro sistema sanitario negli ultimi 30 anni che trattagli revisioni di posti importanti che devono essere ricoperti da gente che ha preparazione e merito per poterli ricoprire e tra personale sempre più malpagato e sempre più demotivato è ovvio che questo diritto fondamentale alla salute viene completamente annullato cosa fare cosa fare cosa fare è ripristinare uno stato di cose che prima funzionavano e che oggi non funzionano più questa è la la il nocciolo della questione poi la discussione sull'OMS sui vaccini eccetera è ovvio che sono dei campi altrettanto importanti però se prima non rivediamo tutto quello che accade nel nostro interno e quindi nei nostri ospedali ben consci del fatto che in un'urgenza dobbiamo rivolgersi nelle strutture pubbliche non possiamo andare nelle strutture private dobbiamo inevitabilmente dove c'è posto andare beh a questo punto con nomine fatte solo così in maniera capodica dovremmo farci più spesso probabilmente il seno di croce e questo credo che non vada bene quindi ritengo che ora aspetta ad una buona politica laddove ci auguriamo tutti ci sia mettere mani ad un sistema che potrebbe anzi no che potrebbe che interessa tutti ma davvero tutti ho concluso grazie grazie Franco perché è un giornalista economista che scrive sul corriere e che dice queste cose è importante allora l'altra persona che prima aveva alzato la mano nell'ordine non mi ricordo più chi fosse giustamente Jessica grazie Luigi prego Jessica io intanto ti ringrazio Franco per essere venuto prego Jessica ciao buonasera io volevo fare una puntualizzazione prima su quello che ha detto Luigi in merito al fatto non hanno avuto il coraggio di mettere l'obbligo ma secondo me non è stata una questione di coraggio loro sapevano perfettamente quello che facevano e non hanno messo l'obbligo perché non potevano mettere l'obbligo non hanno messo l'obbligo perché avevano effettivamente lo scopo era quello è stata una sperimentazione che loro sapevano che era così e la dovevano provare con una forte coercizione così come hanno fatto quello che Draghi ha fatto l'ha fatto con consapevolezza di quello che faceva perché non poteva non sapere alla vigilia di Natale del 21 quando diceva che abbiamo una fetta di popolazione che adesso non è fuori dalla società ci auguriamo che rientri presto eccetera eccetera uno che dice ste robe qua non può non essere una questione di non coraggio uno che dice ste robe qua è un criminale così come è realmente stato non si può pensare a una mancanza di obbligo per una questione di coraggio quando poi abbiamo scoperto dopo che c'era un cts che dicevano delle cose e loro che ne hanno fatto in altre io non so qui dentro quanti hanno letto il libro di speranza la schifezza del libro però ha scritto delle cose che se sono vere è ancora di più da processare se sono vere se non sono vere è da processare perché non sono vere credo che la risposta qui sia doppia sia di il sanatore Borghi che del dottor Pecchioni ma guarda quello che posso dire da uno che ovviamente l'ha vissuto dall'interno esiterei a farli più furbi di quelli che di quello di quello che sono di quello che erano cioè l'input che è stato dato dall'esterno quello su quello su Green Pass e così via è venuto dalla Francia cioè grande idee macroniane Attali e compagnia bella e lì probabilmente l'hanno pensata bene come strumento come strumento coercitivo di controllo della gente e similari i nostri ci sono tuffati a pesce no? cioè Draghi appena l'ha visto ho detto che meraviglia PD anche speranza pure dopodiché insomma mi sembrava abbastanza chiaro che volessero vedere dove si andava e il discorso obbligo era una cosa che li spaventava un po' perché da una parte dicevano forse la parola obbligo porta una resistenza che al momento che al momento non vedo con il green pass metto green pass sì c'è un po' di gente che manifesta in giro ma a fondo come il burro no? viceversa se metto l'obbligo metti caso che c'è qualcuno che se la prende e due pensavano probabilmente che l'obbligo avrebbe portato anche l'eventuale risarcimento e portava al rischio no? io gli obbligo gli obbligo e poi dopo vengono fuori eventi avversi e così questo tipo questi mi vengono a prendere a casa viceversa io prendo e mi invento questa porcata del del green pass ufficialmente non è un obbligo io posso avere mani alzate e dico ma guarda che io in realtà non ho fatto un cazzo ve lo ricordate cosa dicevano era comportato da tutta la platea dei simpatici virologi che li chiamavano nudging no? le spintarelle cioè io ti devo dare la spintarella no? a vaccinarti mica ti obbligo e e quindi insomma si erano andati su questa su questa striscia qua da lì a dire che fosse l'esperimento già tutto programmato nei dettagli e quindi allora non volevano l'obbligo perché volevano vedere non lo so cioè quello che mi è parso molto banalmente era gente che temeva per il proprio culo ecco eh però senatore mi permetta se lui ha agito così perché si ci è buttato a burgi ah che cosa bellissima che mi hanno dato che mi ha dato Macron eccetera eccetera e io adesso ho sto potere ho sto popolazione di 60 milioni mi scialo mi diverto proprio no? a vedere l'effetto che fa cioè questa qua è una mente perversa ma sì ma poi per esempio in certi casi ho avuto la netta sensazione però magari sono io che che sono che sono paranoico ma ho avuto la netta sensazione che in certi casi ci andasse dentro particolarmente pesante con queste puttanate apposta per romperci i coglioni noi a Lega cioè col fatto che lui non insomma avrebbe preferito che noi non non ci fossimo in modo tale e che ci odiava cioè lui di base di base ci odiava odiava me odiava insomma tutto quello che noi rappresentavamo il fatto che il fatto il fatto il fatto che lui vedesse che questa cosa ci faceva malissimo perché ovviamente venivamo bersagliati dai nostri stessi no? che dicevano ma che cazzo fate no? di questo tipo e non non potevamo fare altro perché ovviamente non eravamo non eravamo decisivi in niente e quindi si creava insomma le stesse litigie all'interno cioè io che me la prendevo con i bergamaschi che invece a loro volta avrebbero vaccinato anche i sassi perché scottati dalla prima parte della pandemia no? e così via cioè c'era un certo qual gusto no? nel dire guarda tanto pidivano tutti bene gli altri ci vengono dietro come come dei coglioni questa roba qua fa dei danni alla Lega ottimo inventiamoci ancora no? delle restrizioni le più stupide perché perché tanto i danni arrivano tutti a loro cioè poi magari ripeto è paranoia mia e in realtà lui se ne fregava e andava avanti con altre agende però l'impressione che ho avuto era quella quindi se tu dici una mente sadica sì certo cazzo basta guardarlo in faccia eh credo di sì comunque Silvio o Silvano non so se perché ora volete mangiare se siete impegnati io tra cinque minuti vi lascio io vi lascio adesso perché tenete famiglia allora magari sentiamo la domanda di Silvio aspettate tre minuti chiudiamo tutti insieme esatto facciamo fare la domanda ma io non ho fatto niente una domanda idiota io prego Silvio vai io avrei voluto solo fare una considerazione io sono sono un medico sono un cardiologo sarei voluto intervenire sulla sull'obbligatorietà vaccinale in realtà Franco Lella mi ha stimolato un pochettino a fare una considerazione io penso che quello che è successo con i vaccini e con la gestione del covid in realtà molto sia il risultato della della deriva della sanità italiana perché guardate che quei dieci coglioni che hanno gestito cioè hanno consigliato il ministero per ciò che riguarda sia i vaccini ma soprattutto per tutta la gestione del covid di medicina non ne capiscono nulla quindi se voi avreste la possibilità di guardare i curriculum di questa gente che cosa hanno fatto nella vita vi renderete conto che questi di pazienti non li hanno mai visitato e non avevano le capacità culturali per gestire quella in quell'immenso problema che noi abbiamo avuto vi dico solo una cosa ad oggi siamo nel 2024 non esistono in Italia ancora dei protocolli per gestire il covid cioè se ti arriva un paziente in pronto soccorso o in un reparto di medicina in qualunque reparto tu non hai ancora un protocollo che ti dice come devi gestire quel paziente finché in Italia la sanità verrà gestita da queste persone negli ospedali ci saranno dei primari che sono nominati dalla politica con un sistema clientelare gli ospedali non potranno mai funzionare quindi il problema si risolve alla radice ho cercato di essere breve ma avrei tantissime cose da dire hai detto praticamente tutto e vorrei confermare che ho un carissimo amico cardiologo che è a Milano e che assolutamente diceva le stesse cose quindi io di curriculum di queste persone che in effetti non hanno mai visto un paziente si occupavano di igiene ne ho visti e me ne hanno passato i pareti bastava guardare anche Ricciardi e poi un giorno parliamo anche di quell'altro genio di Locatelli perché quello a cui facevo vedere gli studi e così via è questo che mi diceva non li voglio neanche vedere perché io seguo la scienza ma questo dovrebbe essere questa qua scusami Claudio ma per questo mi sono permesso di leggere quella lettera del primario proprio per questo motivo e ringrazio Silvio di aver ancora di più evidenziato il problema per questo motivo no ma per carità poi vedete se vogliamo dire poi a che livello deve arrivare il controllo politico vi assicuro non è semplice perché prendere e dire ah sì sì allora diamo tutto ai medici e così questo tipo poi funziona come diamo tutta la giustizia ai magistrati cosa potranno da storto cioè capito cioè non è così semplice come come cioè come la fate voi cioè non è che se io prendo e invece di mettere un primario di nomina politica perché che schifo la nomina politica e poi dopo ci metto Locatelli invece viene meglio ecco quindi insomma quello è un discorso più ampio che meriterebbe un approfondimento però sul fatto dell'incapacità del CTS e cose di questo tipo direi che è abbastanza evidente aspetto solo che ci sia la commissione d'inchiesta che parte poi per cominciare a vedere adesso devo andare grazie va bene grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti